Riconsegnate ufficialmente le chiavi delle piscine lenaia di Di Pescara, che torneranno a disposizione della città. Questa mattina si è svolto l'incontro con i rappresentanti delle società a cui è stata affidata la gestione dell'impianto, alla presenza del Presidente del Consiglio regionale Lorenzo Sospiri, dell'Assessore regionale Guido Quintino Liris e del Capogruppo di Fratelli d'Italia in Consiglio regionale Guerino Testa. Sono state consegnate le chiavi ai nuovi gestori delle piscine lenaia di Di Pescara, che sono un impianto chiaramente molto caro ai pescaresi, tra l'altro noi siamo nella parte della piscina scoperta, la più cara di questo splendido impianto all'interno della pineta e di fronte al mare, ai nuovi gestori che avranno oggi l'ardo compito, però da noi molto sostenuto e molto voluto, di ridare splendore ai nadi. Chiaramente è un IDAR che noi abbiamo in quota parte ereditato anche dall'ultima parte della precedente amministrazione, ringrazio il Presidente Lolli per averlo immaginato, noi l'abbiamo difeso e chiuso, siamo contenti, speranzosi che le nadi possano tornare alla piena fruibilità di tutti i cittadini d'Abruzzo e allo splendore di ciò che sono il più grande impianto natatorio del medio adriatico e devono tornare ad essere questo.